buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è lunedì 22 maggio 2023 ebbene il 22 maggio è una data particolare perché oggi si festeggia una santa che è venerata tantissimo anche nel nostro territorio vediamo subito la grafica e vediamo che oggi si festeggia santa rita da cascia santa rita una santa ancora dicevo oggi molto venerata considerata la santa degli impossibili dei casi disperati è una santa che è vissuta nel quattordicesimo secolo rimasta vedova da un marito burbero e collerico entrò nell'ordine degli agostiniani tant'è che a fano la si venera in modo particolare nella chiesa di san giuseppe al porto che è appunto gestita dagli agostiniani la vita di santa rita da cascia è tutto un esempio di santità e di vertù e la si ritrae mentre riceve così miracolosamente dal crocifisso una spina che gli si conficca in sulla fronte e quella piaga le rimase così per tutta la vita una piaga molto dolorosa santa rita la santa degli impossibili le previsioni del tempo oggi abbiamo un tempo stabile su tutta la regione con sole e nubi di passaggio ci saranno anche possibili fenomeni isolati lungo la catena appenninica le temperature sono in leggero aumento le minime sono 15 gradi le massime 22 i venti sulle coste vengono da nord ovest nell'entroterra da nord est il mare è leggermente mosso anzi possiamo dire poco mosso ebbene fatto questo preambolo apriamo subito il giornale ma oggi apriamo subito il giornale dello sport per così esaltarci insieme al fano calcio la festa è del fano Nappello fa il capolavoro e sconfigge la vigor per uno a zero in casa della vigor Nappello fa il capolavoro la vigor sbatte sui legni più volte la vigor ha tentato il gol ma le traverse o i pali della porta hanno respinto il pallone e l'alma arriva fino in fondo con il vantaggio vigor senigaglia zero alma juventus su uno la finale playoff e del fano basta una perla veramente di Nappello per regalare ai granata un bel successo che suggella un po l'ultimo l'ottimo lavoro che è stato fatto anche da mister mosconi in tutta la stagione la vigor ha giocato con una certa personalità ha sbattuto per tre volte dicevo il pallone sui legni e ha lottato così tanto da uscire stremata dal campo sintetico del bianchelli e di fronte ad una cornice così clamorosa il pubblico era veramente tanto coloro che da fano hanno potuto raggiungere senigaglia acquistando i biglietti erano molto molto così accalorati ebbene con questa festa si è congedato bene sia il fano calcio che la vigor senigaglia c'è la cronaca del match molto esaltante sui giornali questa mattina e gli appassionati di calcio possono ovviamente divertirsi a leggerla passiamo anche un po alle altre notizie vediamo come la pergolese eccola qua va in finale basta il pari in rimonta con la falco prima categoria sezione a finisce 1 a 1 al novantesimo pergolese 1 falco acqualagna 1 poi si va ai supplementari ma non succede nulla rimane il pari domenica la sfida con il tavuglia ancora se ancora per quanto riguarda invece il basket vl è già futuro il primo nodo è repesa serve programmazione il coach ha sollevato qualche dubbio al termine di gara 4 e la cosa fondamentale oltre a quella di avere una casa nostra dove lavorare insomma si è nel finale della stagione si tirano un po le somme e si guarda verso il futuro e questo per quanto riguarda lo sport oggi rimane sempre quella bella vittoria che ha fatto il fano che ha condotto una bella stagione allora apriamo il corriere adriatico sulla pagina di fano e dopo il sit in che gli ambientalisti hanno fatto sabato al sottopasso di viale cairoli vediamo ora delle prese di posizioni in modo particolare dal consigliere comunale stefano marchegiani il sottopasso dice marchegiani che poi anche un architetto non è adeguato al lido chiede chiarimenti anche sulla vasca contro gli allagamenti e la vasca di piazzale a mendola comunque al lido di fano sembra che i conti non tornino era bello poter allargare quel sottopasso per farci passare anche i disabili in carrozzella che ora sono costretti a transitare lungo viale fabio filzi e poi raggiungere il sottopasso di viale carducci per raggiungere la spiaggia però insomma sembra che l'estetica abbia la prevalenza sulla funzionalità ebbene dice marchegiani è un aspetto da valutare e se l'opera mantenga una sua attualità considerando poi che in futuro c'è il progetto di spostare la ferrovia quindi fare questa opera monumentale adesso per poi magari vanificarla sono soldi sprecati c'è anche da dire che chissà se veramente poi questo spostamento della ferrovia avrà luogo o meno ma intanto è una prospettiva da tenere conto dice l'ex assessore alla cultura e poi nella giornata di sabato le associazioni argonauta lupus in fabula italia nostra legambiente dimore storiche hanno promosso una manifestazione di protesta sul su viale cairoli e viale fabio filzi perché i lavori richiederanno il taglio di 15 alberi di alto fusto oltre alla perdita di un ecosistema che in questo caso ha sollevato subito le proteste degli ambientalisti c'è questo impatto ambientale che dobbiamo dire è molto molto forte e quindi si cerca un po di così mettere sull'avviso e coloro che devono così attuare poi il processo è un'altra il progetto scusate è un'altra situazione invece quella di piazzale a mendola allagata ancora una volta nonostante che siano entrate in funzione le pompe che sono state realizzate in quella fossa di contenimento che è stata realizzata che ci è voluto molto tempo per realizzarla allora questa fossa funziona o non funziona ebbene i tempi per smaltire l'acqua sono stati certamente ridotti ma si pensava che gli allegamenti non ci fossero più in realtà poi ci sono stati quindi anche in questo caso marchigiani chiede all'amministrazione comunale di fare chiarezza sulla funzionalità di questo impianto passiamo alle altre notizie vediamo che la scuola media nuti ha raggiunto un bel traguardo per quanto riguarda lo sport i ragazzi della terza media dell'istituto rappresenteranno le marche in abruzzo per quanto riguarda la festa nazionale delle squadre di volley la squadra maschile di pallavolo dell'istituto comprensivo nuti rappresenterà fano e le marche alla festa nazionale dello sport scolastico la cui fase finale si svolge da oggi a venerdì prossimo in abruzzo quindi un bel successo di fine anno per questi studenti a cui va l'applauso di tutta la città l'apertura della seconda pagina delle corriere adriatico si completa il centro civico di gimarra i lavori ora iniziano al secondo piano è stato già realizzato ed inaugurato in piena funzione il primo piano del centro civico di gimarra quello che l'amministrazione comunale ha acquistato nel fallimento della ditta che aveva realizzato questo grande complesso che ha soppiantato l'ex colonia inam a gimarra ebbene ora occorrono altri 600 mila euro per realizzare il secondo piano un secondo piano importante per il quartiere che così correda un po' questo punto di aggregazione molto molto importante e atteso da decenni che cosa ci si farà nel secondo piano lo evidenzia appunto il corriere adriatico un aula studio per i ragazzi più giovani uffici per il co-working per tutti quei professionisti che avrebbero necessità di uno studio e non possono permetterselo e poi ancora ci sarà anche una sala molto ampia in cui potranno svolgersi delle feste di compleanno piccole rappresentazioni teatrali corsi di musica e iniziative di questo genere che posso fungere un po' da supporto all'attività di quartiere intanto in questo centro già sono operativi il centro non solo donna e anche il club anziani di gimarra che è un presidio storico di tutto il quartiere e chissà che alla fine quando questo complesso verrà terminato grazie anche l'apporto dei privati che hanno ripreso i lavori per farci una trentina di appartamenti e anche la farmacia che è sotto sulla statale adriatica non possa salire e anche lei essere aperta nel cuore del quartiere si completa dunque il centro civico di gimarra e poi per quanto riguarda le scuole oltre alla nuti il corriere adriatico evidenzia anche la fucina degli arti degli studenti dell'Apolloni una stimolante partecipazione con i laboratori didattici alla notte dei musei e grazie proprio alla presenza degli studenti dell'Apolloni la notte dei musei che si è svolta all'interno del palazzo malatestiano con circa 400 visitatori nonostante la pioggia ha avuto un guizzo in più dobbiamo dire un'attrattiva in più perché questi ragazzi con le loro opere d'arte hanno veramente animato la serata e si sono confrontati con i grandi capolavori che sono esposti nella pinacoteca civica passiamo a Mondolfo a Mondolfo si parla dello sferisterio questo antico gioco molto in voga nella prima metà del secolo scorso è il gioco tradizionale che ora viene trasmesso anche ai più giovani domenica ci saranno le gare di pallone col bracciale e tamburello sport insegnati a scuola ed è bello che la scuola insegni anche questi sport tradizionali e in programma domenica prossima alle nove il torneo estivo per i bambini della quinta elementare che si sfideranno a tamburello e al gioco del pallone col bracciale il gioco del pallone col bracciale a Mondolfo si svolge in questo grande muro che è un po' le mura della città però è un muro tradizionale dove si svolge da tanti anni il gioco del bracciale e lo vedete qui ci sono degli giocatori che sono in posizione che cercano appunto di colpire la palla e farla sbattere contro il muro ebbene l'iniziativa rientra nelle attività della società gruppo sferico scusate gruppo sferistico mondolfese in collaborazione con l'amministrazione comunale e poi vediamo che a fondo pagina c'è la gratitudine di serra a Sant'Abbondio agli operatori di Firenze una cerimonia che si svolta a Palazzo Vecchio a Firenze stessa per l'aiuto dato ai dipendenti del comune giriamo ancora la pagina siamo a Senigallia dove si rifà bella la spiaggia di Velluto spiaggia di Velluto a due velocità corsa contro il tempo per pulirla il comune stima che ci vorrà una settimana per ripulire tutta la spiaggia dai rifiuti che il mare ne ha riversato quei legni quella sporcizia dopo la tempesta insomma è stato veramente un disastro e ci vorrà proprio una settimana per ripulirla tutta ma poi diverrà quella bellissima spiaggia che Senigallia ha sempre avuto e che costituisce una attrattiva turistica che ha poi un riflesso sull'attività economica molto importante la spiaggia di Velluto torna a prendere forma mentre proseguono le grandi pulizie per la rimozione degli ultimi detriti questo per quanto riguarda il Corriere Adriatico diamo anche un'occhiata alla pagina pesaresi ovviamente si parla anche oggi qui di spiaggia perché anche Pesaro ha una bella spiaggia però questa è stata erosa molto profondamente dal mare in tempesta e quindi la spiaggia mangiata va subito recuperata occorrono più fondi del comune lo dicono anche le associazioni di categoria la CNA la CGA la Confartigianato servono 80 mila euro in più per i ripascimenti che sono stati bloccati dal maltempo ora il tempo si sta rasserenando il mare piano piano si ritira ma ci sono degli scalini pensate i bagnini ci sono punti lo dico qui in questo trafiletto ci sono punti dove il mare ha scavato un metro quindi pensate proprio la differenza di livello che c'è tra la battigia e la spiaggia retrostante ogni volta ci allaghiamo ma nessuno fa qualcosa sono gli abitanti i residenti di strada fornace vecchia che sono veramente allo stremo non è la prima volta che vengono allagati guardate qui che disastro in questa fotografia le pompe di espirazione dell'acqua in caso di forti piogge non funzionano come dovrebbero è in strada della fornace vecchia a ridosso del casello dell'A14 di Pesaro l'uscita e l'entrata dell'autostrada sono veramente sempre sott'acqua e quindi hanno bisogno di aiuto. Pesaro deve farsi conoscere di più spinta su marketing e promozione ebbene devo dire che quello che ha detto Nardo Filippetti nei giorni scorsi durante un convegno sul turismo ha veramente seminato molte molte provocazioni queste dichiarazioni sono state condivise da diversi operatori ed ora è il presidente degli albergatori APA Paolo Costantini che rincara la dose il confronto tra gli albergatori che nei giorni scorsi sono trovati nella partecipata assemblea dei soci che si è tenuta a Palazzo Gradari ha veramente acceso la miccia si tratta di così incentivare la promozione perché ci si è accorti che nonostante la prospettiva di Pesaro capitale nazionale della cultura per il 2024 si fa ancora oggi troppo poco per la promozione e bisogna pensare anche a questa stagione non solo a quella del 2024 una protesta questa volta a protestare sono i bambini sono i genitori di una scuola materna via subito quell'antenna dall'asilo i residenti si muovono su tre fronti firme, accesso agli atti e lettere per rimuovere il ripetitore di 25 metri spuntato in via Forlanini vicino ad una scuola materna l'antenna è mobile quindi non è che fissa dovrà stare lì pochi mesi ma questo non convince non convince i residenti del quartiere Montegranaro-Muraglia sono i residenti delle vie Ferraris-Forlanini-Beccaria che da dieci giorni convivono con 25 metri di altezza un traliccio che veramente è anche brutto a vedersi comunque ovviamente funzionale per quello che serve il comune attraverso l'assessore all'ambiente Maria Rosa Conti ha già detto che quell'impianto vicino ai bimbi non ci può stare ma intanto i giorni passano e sono i residenti a muoversi insomma non basta solo dire che non ci può stare occorre rimuoverlo se è così deciso di fare vediamo anche la pagina di Urbino dove vediamo che si fa a luce un artigiano anzi dovremmo dire un artista ma c'è gli artigiani sono un po' artisti Denis Di Luca nel suo ultimo corso in Francia a Corde sur Ciel ebbene Denis Di Luca ha una singolare attività fa il ceramista ebbene ed è richiesto anche all'estero in Francia, Inghilterra e Olanda e sono i visitatori attirati da Urbino e quando anche un Urbinate va all'estero e si dice io sono di Urbino ebbene già la gente comincia un po' a suggestionarsi perché così è l'effetto della città ducale questo per quanto riguarda il Corriere Adriatico ora diamo un'occhiata anche al resto del Carlino diamo un'occhiata prima alla pagina iniziale dove vengono sintetizzate le notizie di tutte le province marchigiane e vediamo quello che è accaduto a Pesaro a Pesaro incastrato per ore dentro un camion paura per un 65enne che è precipitato in fondo ad un dirupo deve la vita a un parente che ha alertato i soccorsi ed è stato poi lo vedremo anche quando leggeremo l'articolo diverse ore perché nessuno l'aveva notato e poi si parla dei quartieri invasi dall'acqua Aguzzi accusa l'ato di Pesaro perde tempo è ancora alluvione la rabbia della gente nessuno pulisce i torrenti cosa invece essenziale perché le alluvioni non causino poi le esondazioni dei torrenti stesso e poi vediamo quest'articolo ve lo anticipo intanto quello che è accaduto a Loreto dove degli ambientalisti oppure non si sa se sono degli ambientalisti perché qui l'autore non è stato ancora trovato però l'accostamento con quello che è avvenuto a Fontana di Trevi che magari anche se non è ambientalista l'autore di questa cosa è stato suggestionato anche da quello che è avvenuto ancora una volta a Roma detersivo nella Fontana Loreto i vandali ripresi dai video l'ira del sindaco Pieroni abbiamo subito sistemato imbrattato un monumento di importanza artistica vediamo anche la pagina di Ascoli e Fermo un tesoretto di 10 milioni per iniziare gli interventi di riqualificazione ad Acqua Santa a Fermo concorso Postacchini la sfida tra i violinisti e poi abbiamo la morte di Cleto oggi l'addio a San Giacomo della Marca aveva 49 anni questo ancora giovane che è deceduto gli angeli del fango li vediamo qui sporchi ma ancora determinati a portare avanti la loro azione di volontariato quattro giovani dalla riviera Cesena aiutiamo chi soffre e tanti giovani sono veramente giunti da tante località delle Marche per aiutare i romagnoli in difficoltà a Macerata schianto sulla Regina quattro persone ferite e grave un ventenne è caduto nei pressi di Monte Lupone e poi ancora controlli durante il weekend sulle strade della provincia Macerata strade sicure auto sequestrate riterate 22 patenti pensate a Civitanova volontari in azione l'area portuale liberata dai rifiuti ora apriamo la pagina di Pesaro e vediamo l'articolo che riguarda le polemiche sui laghi artificiali laghi artificiali per sopravvivere oggi abbiamo tanta acqua è probabile però che nei prossimi mesi l'acqua scarseggi occorre quindi mantenerla quest'acqua occorre che ci siano dei risparmi e cosa fare? ebbene occorre degli invasi artificiali per fare delle riserve d'acqua però lato di Pesaro è dormiente meglio Enel che pulirà gli invasi è l'assessore regionale Aguzzi che accusa l'ente provinciale di immobilismo per quanto riguarda queste opportunità queste necessità diciamo meglio per immagazzinare l'acqua se incarichi tre o quattro università per capire cosa fare dice Aguzzi vuol dire che perdi tempo in un studio della regione Veneto tra le ipotesi in campo per i bacini di contenimento dell'acqua c'è anche il recupero delle cave dismesse e questo ha fatto sì che si valuti il recupero per un bacino idrico della cava di Sant'Anna al Furlo che avrebbe una capacità di due milioni di metri cubi e cioè tutta quella che è stata presa dai pozzi del Burano e di Sant'Anna nelle ultime due estate quindi una capacità di riserva molto considerevole ma restiamo sempre nel problema idrico esondazioni troppo facili nessuno pulisce i torrenti in via Fornace e Mancini a Catabrighe e tanti arredi su pallettili per strada la gente accusa di scarsa o nessuna manutenzione degli scuoli sono abbandonati e vediamo qui gli arredi abbiamo delle lavatrici abbiamo appunto degli elettrodomestici per strada sporchi di fango erano stati invasi mentre erano al loro posto nelle cucine oppure negli scantinati invasi dall'acqua è veramente è stata una perdita importante e c'è la richiesta dello stato di emergenza che è estremamente importante per poter programmare interventi ed investimenti per poi riuscire a contenere ulteriori danni salviamo il mercatino abbiamo ortaggi a chilometro zero e qui siamo sulla pagina che riguarda Fano e il mercatino in questione è quello di via Garibaldi dove periodicamente alla settimana si svolge un mercatino di produttori che coltivano i loro prodotti i loro ortaggi a chilometro zero le bancarelle si trovano in via Garibaldi dove il traffico è veloce ma forse è un titolo un po' azzardato il traffico veloce su via Garibaldi io non l'ho mai visto però insomma può capitare anche questo chiediamo all'amministrazione di aiutarci nel salvaguardare la qualità ebbene ogni produttore in questo caso evidenzia appunto la sua presenza in questo mercatino e fa promozione per tutta l'iniziativa in un periodo di crisi per l'agricoltura e per l'apicultura soprattutto è importante che i cittadini diano il supporto alle aziende agricole di Fano e del territorio acquistando i loro prodotti il mercato di via Garibaldi offre proprio questa possibilità furti rapine e spaccio arresti e avvisi professionista sorpreso ubriaco in auto è accaduto in Ancona l'uomo guidava una Audi TT nel sangue pensate alcol quattro volte superiore ai limiti ed ora diamo un'occhiata anche a quello che vi ho anticipato e siamo in conclusione detersivo nella fontana atto vandalico a Loreto nella storica piazza dei Galli il sindaco qualcuno ha pensato di farci questo regalo ovviamente tra virgolette in un monumento di importanza artistica abbiamo subito ripulito però ora diamo la caccia ai responsabili e con questa notizia chiudiamo i giornali e terminiamo la nostra rassegna stampa e io vi do appuntamento a domani alle ore 7 precise grazie per l'ascolto a risentirci grazie per l'ascolto